Buon pranzo, buon pranzo, 13.01, 22 marzo 2017, sì, siamo pronti così un pochettino a preparare il nostro stomacchino al buon pranzo, pranzi succulenti immagino, perfetto, nell'attesa di mangiare, bellissima canzone di Max Gazet, una musica può fare, bella, 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 tutta per voi. Una musica può fare, cantare, li, 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 la, 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 maggiore. Una musica può fare, cambiare, mi, ni, ni, na, na, una musica può fare, dove sei, non mi vuoi, stai con me. Una musica può fare, cosa fai, non mi vuoi, tanto uguale. Una musica può fare, salvarti sull'orlo del precipizio, quello che la musica può fare. Salvarti sull'orlo del precipizio, non ci si può lamentare. Una musica può fare, dormire, bambini, il giorno. Una musica può fare, vegliare, bambini, la notte. Una musica può fare, solitudini bastate, a farsi da, mangiare. Insieme dove? Dove? Sotto l'armadio, con la radio. Dove? Una musica può fare, una musica può fare, parlare, soltanto d'amore. Una musica può fare, salvarti sull'orlo del precipizio, quello che la musica può fare. Salvarti sull'orlo del precipizio, quello che la musica può fare. E con Max Gazet, una musica può fare, auguro a tutti voi una splendida continuazione di giornata e un arrivederci a oggi pomeriggio, cari miei. Buon pranzo dal vostro Albi!